La mia opinione sul tango e penso di aver capito che è una parte di me che esisteva e che non vedevo. Questa è una programma. Il desiderio è forse tornare in un posto che ho già visto, che ha una magia particolare, Praga. Tutti cerchiamo di raggiungere. Adoro Fabio Oro, perché secondo me è uno dei scrittori più semplici, ma che dà un'immagine molto essenziale sulla nostra generazione. Non se ne penso sia amare noi stessi, non siamo noi stessi, non si riesce a amare gli altri. La riscoperta di un qualcosa di me che non avevo ancora capito. La letteratura, la musica sia classica, moderna e suona canofone. La letteratura, la musica sia classica, moderna e suona canofone. La letteratura, la musica sia classica, moderna e suona canofone. La letteratura, la musica sia ci finché. con tu rigor di tutto il mio amore